Bene, ritorniamo sul campo del Baschiatrovello, cari amici di Piero Dassaronno, abbiamo le spalle di Losa in mezzo al nostro teleschermo, riprendiamo la partita, le squadre sono sul 27 pari, rientriamo con il quintetto base, lasciamo fuori Sugar che ha troppi falli e mettiamo Lollo, Lollo, Borghi, Botti, ecco Marzio che passa davanti a noi, l'uomo portatore di acqua, sportellata su Giorgio Borghi e in volo planando realizza il canestro del più due per i ragazzi di Rovello, gira veloce il pallone sul perimetro dei ragazzi di Cislago, ancora Parietti, Parietti in uno contro uno, perde il possesso del pallone, poi lo riconquista e poi Botti lo fa rotolar via dalle dita, scarico fuori per Giorgio Borghi, Lollo, Lollo, Bombarollo, non va, ma Losa è molto scaltro per andare a recuperare il pallone, purtroppo calpestando la linea di fondo, eh sì dottoressa, una birretta ci sta sempre bene, porta palla allora, roppo contro Davide, riceve Eriforio, passo e tiro ed è in area con un po' di secondi, Eriforio che va in semigancio, appoggiando al vetro, non va, tentativo di fallo su Davide Terraneo, recuperano i ragazzi di Cislago, gira il pallone per Lollo, blocco di Giorgio Borghi, riceve poi il pallone, Giorgio Borghi, Botti Botti, finalmente, Bottinelli, due punti, 31-27, Cattaneo, Cattaneo contro Giorgio Borghi, si gira, scarica fuori per, meraviglia, meraviglia, mani d'oro veramente, 31-29, 8-20 da giocare, Lollo, Botti per Lollo ancora, ancora per Botti, passi di partenza non fischiate a Botti, si avvita in cielo, Botti, va in semigancio, appoggiando al vetro, ancora fuori per Parietti, Parietti per, meraviglia, scarico fuori molto lontano, per Roppo, arresto e tiro di Roppo, ma incredibile ragazzi, stasera veramente, mani calde, sono svegliati i caldi, dal time out, tutte e due le squadre, close ancora, per Lollo, Botti blocco, per Lollo, va a cercare un fallo, non è buono, è buono, è come quello di prima, prima era buono e adesso non lo è più, non si capisce perché, 14 secondi da giocare allora, non dato buono il canestro di Lollo, esce Davide, due blocchi, Botti, Botti mette a posti i piedi, si gira, si gira velocissimo, si protegge con il ferro, grandissimo, grandissimo avvitamento di Botti, che dà veramente sfoggio di grandi tiri questa sera, e poi ancora un tiro di meraviglia, è un rimbalzo conquistato da Simone Roppo, che fa arresto e tiro, non va l'arresto e tiro di Roppo, Davidino, andiamo a correre, per Botti sotto, si protegge ancora con il vetro, con il ferro, con il corpo, buona, subito coach Federico Sassi, corre ai ripari, 37-31, basket rovello, una buona uscita dallo spogliatoio per i nostri ragazzi, 6,37 da giocare, Botti ha trovato delle ottime soluzioni di realizzazione da sotto, l'abbiamo servito molto bene, ora, vediamo cosa disegnerà coach Sassi, per cercare di recuperare questo piccolo mini break, fatto dai ragazzi di Rovello, all'inizio nel primo quarto si era messa veramente male, riprendiamo, sempre con i ragazzi che sono entrati in precedenza, allora Lollo contro Parietti, allora Lollo contro Parietti, escono da due blocchi, Eri fuori contro Losa, buono, buona la difesa di Losa, si protegge molto bene col corpo, fallo su Lollo non fischiato, Lollo Lollo, fuori per Losa, mette a posto i piedi Losa, e la mette finalmente, bravissimo, ottimo, Ricchi Losa, Cattaneo, per Meraviglia, Meraviglia per Roppo, blocco di Meraviglia, e poi fallo, buon fallo, speso bene, di Davide Terraneo, giustamente, si lamenta per, le smanacciate che ha ricevuto da Meraviglia, il capitano della squadra, un bel 1,95 per un quinta lozzo di peso, due liberi per lui, sul fallo subito, il primo libero, balla sul ferro, e poi, viene sputato, secondo libero per lui, questa volta, è un punto, 39, 32 ragazzi, di Rovello, Botti, Botti che gioca fuori adesso, Losa, ora per Davide, gira sul perimetro, Lollo Lollo, fintone di Lollo, poi Losa, e poi, una buonissima, intercettata, da parte di Simone Roppo, 7 secondi da giocare, chiamiamolo schema diretta, Davide, Davide va in mezzo, cerca un fallo, realizza il canestro, di spalle, realizza il canestro di spalle, questo ci voleva proprio, dimostrazione di sicurezza, nei confronti degli avversari, e tiro libero supplementare, questo potremmo andare sulle, sulle migliori dieci azioni, del campionato, allora, Roppo, Roppo contro Davide, Davide si appoggia, viene fischiato un fallo, lo cambierei, visto che ha tre falli, barra quattro, terzo fallo di Davide Terraneo, mettiamo Moscatelli, cambio, esce Davidino, tre falli, ce lo teniamo, per, il quarto quarto, 41-32 intanto, triplo blocco, è presa la palla da Cattaneo, un arrestativo, troppo precipitoso, Lollo vola verso il canestro, si ferma, Losa, per Botti, Botti per Lollo, fintissima di Lollo, si avventura in mezzo all'area, e poi, viene fatta una bella vecchia a Lollo, minuto di sospensione, ancora per il basket di Cislago, una bella vecchia tirata a Lollo, sul 41-32, cinque minuti, da giocare, in questo, terzo quarto, bene, stavamo guardando, prima, sulla, sulle partite già giocate, in questo, in questo, inizio di stagione, Gallalate ha faticato, contro Garbagnate, che normalmente vince di, parecchi punti, ha faticato, ha vinto 69-63, contro Garbagnate, mentre come dicevamo prima, Tradate, la squadra del nostro, grande Matteo, ha vinto contro il Casorate, una bella battaglia, che, gli fa tirare, un po', un piccolo, sospiro di sollievo, per andare verso, la zona, salvezza, rimessa, per i ragazzi, Cislago, Parietti, temporeggia, e poi, recupera il pallone, Eriforio, Eriforio, gira sotto per, Cattaneo, arresto e tiro di roppo, molto bello, curato da due persone, e allora Moscatelli, conduce il contro, l'azione, poi la dà Lollo, mettiamo, doppio blocco sopra, Lollo per Botti, Botti per, Mosca, ancora per Botti, cerca una soluzione, ma c'è Moscatelli, libero, Moscatelli libero, tira un tiro, piuttosto ignorante, e poi non ce la fa, a raggiungere il ferro lungo, Finta, doppia finta, molto bella, di Cattaneo, che poi non riesce, ad infilare il pallone, nella retina, e poi Lollo, va a perdere, una palla, a centrocampo, ed andiamo a cambiare, ed andiamo a mettere, Boss, Botti, per Losa, ancora per Botti, ancora per Lollo, Lollo che finta il tiro, attira a sé, tre giocatori, sono a zona, e poi fallo, commesso su Lollo, non fischiato, Moscatelli esce, ed esce anche, Ricky Losa, entra uno sugar del pero, e Andrea Bosa, ci manca Nicolás adesso, che tra un po', entrerà al posto di Giorgio Borghi, doppio blocco, e Chiellolo, quattro, tre, due, uno, Bosa, al limite, ma non prende il ferro, non prendiamo il ferro, abbiamo vanificato un'azione, peccato per non avere scalfito il ferro, tra i 26 da giocare, 41-36, i ragazzi di Cislago si riportano sotto, in questo momento, ancora Lollo, Eri fuori contro Delpero, Bosa contro Roppo, ecco Eri fuori contro Sugar, uno contro uno, e poi rimbalzone di Botti, Corriamo Delpero, Sugar, forza, su, Botti, Lollo, ancora Sugar, ancora Lollo, ancora Boss, Boss da solo, bellissimo assist, per Delpero, che stava andando in mezzo, Lollo, ancora Boss, per Sugar Delpero, mette a posto i piedini, ah, peccato, azione costruita molto bene, curiamo, curiamo bene il contropiede, lo fermiamo, non facciamo tirare questo che ce la mette però, cerca il pick and roll, poi invece fa pick and pop con Cattaneo, e ci mette un'altra bomba da tre, Cattaneo è, un'ala di 1,98, che da tre punti è veramente immarcabile, e infatti mettiamo in subito i due lunghissimi, Lollo Lollo, fallo subito, sì, su Lollo, arresto e tiro di Giorgio Borghi, che non va, siamo senza, siamo senza fiato adesso, recuperati i nove punti di vantaggio, che avevamo, in un Amen, e poi fallo di Lollo, che mette le mani addosso, a Parietti, Botti si incazza, cambio, esce, esce Borghi, Botti, ed entrano Nicola Sporro, e Max Barbizan, rimessa dal fondo, 14 secondi da giocare per loro, arresto, e poi riconsegna del pallone a, Roppo, che prende una scheggia, ancora Sugar, va da Lollo, ancora Sugar, c'è Bosa a livello nell'angolo, non lo serviamo, è curato da Roppo, Nicola Sparbizan, ancora, un bellissimo gioco a due, da parte dei nostri super lunghi, buon gioco tra, Loh, tra, Nicola Sparbizan, Max Barbizan, 43-39, un attimino di respiro, ci voleva, lasciamo giocare, lasciamo giocare Parietti, Lollo lo difende con il corpo, e poi recupera, rimbalzo Boss, scusate, Nicola, giro per Lollo, scorico fuori per Sugar, mani addosso del numero 8, mani addosso di Nicola, sai bene, spinge, lato per noi, 14 secondi da giocare ancora, Lollo, Lollo per il blocco, si va a recuperare Sugar, Sugar ancora, zingalata, tiro di Nicola dal gomito, ma, è arrivato al pallone troppo presto, non è riuscito a sincronizzarsi, arresto e tiro, intanto, e poi tap in, di un atletico, sai bene, che si riporta sul meno 2, per i ragazzi del basket Cislago, Barbisano esce a prendere il pallone, Sugar, finta al taglio, e poi invece, Lollo va in mezzo, si arrove, si arrove, mannaggia lui, va contro uno di due metri e mezzo, c'era uno scaricolato da fare, non l'abbiamo fatto, fallo di Andrea Bosa, ci stava per far respirare l'azione, 21 secondi da giocare, 18 per loro, 43-41, basket Trovello, forza ragazzi, riceve Parietti, riceve Parietti, e temporeggia, 11 secondi, 8 secondi per giocare con loro, scarico indietro per il playmaker, che poi va nell'angolino, finisce il tempo, Barbisano butta una speranza nel cielo, e andiamo a riposare, sul 43-41 per i ragazzi di Rovello, che erano usciti molto bene, dallo spogliatoio, avevano preso un bel vantaggio di 9 punti, e poi invece, sono stati ricacciati indietro, con un'ottima difesa, e delle ottime azioni d'attacco, da parte dei ragazzi di, coach Federico Sassi, bene, andiamo di riuscire, dalla panchina ancora pimpanti, come siamo usciti prima, dallo spogliatoio, andiamo se rimettiamo Davidino adesso, ce lo conserviamo per la fine della partita, che è gravato di 3-4 falli, come anche Sugar, siamo pronti per ricominciare, Cislago, Rovello pronto, rimettiamo Davidino al posto di Lollo, che ha ben giocato quest'oggi, abbiamo fuori botti, rientrano i ragazzi di Cislago, la rimessa toccherà a loro, noi siamo con Bosa, Sugar, Davide, Barbisan, e Jack Porro, a proposito di Jack Porro, facciamo gli auguri a un nostro amico coach, che ha giocato parecchi anni contro di noi, Mac Puglisi, Marzio, che oggi compie gli anni, e gli facciamo gli auguri in diretta, allora, gioca Cislago con Cattaneo contro Barbisan, che gira sul perimetro, e poi non riesce a realizzare, si appoggia al ferro, ma è corto, Barbisan l'ha curato molto bene, Barbisan eccolo qua, riceve il pallone, e poi Bosa non riesce a conquistarlo, Barbisan, una stoppata incredibile, bravissimo Barbisan, con la mano sinistra, è andato a stopparlo, Bosa, ancora Barbisan, resta il tiro di Barbisan, e poi fallo del numero 18, Andrea Meraviglia, il capitano, se fossi stato in Barbisan avrei tirato, 4-3-4-1, esce Bosa dai blocchi, riceve lui, Sugar, Barbisan blocca, e ha un altro fallo del numero 8, su Sugar del Pero, si stanno caricando di falli, ragazzi di Cislago, Sugar, si è messo, a spingere, bene sotto, rimessa per Bosa dal fondo, riceve Max Barbisan, Sugar, ancora Bosa, ancora Bosa, ha carezzato il pallone dal numero 9, sette secondi per giocare, ancora, cerchiamo di fare qualcosa di intelligente, Barbisan, Barbisan, arresto e tiro, arcobaleno di Barbisan, che poi non ha toccato il ferro, e quindi, rimessa per i ragazzi di coach Federico Sassi, doppio blocco sopra, in alto, arresto e tiro di Parietti, che è corto, sci, via, allora Sugar, pedalare, via, 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 fuori, sali uno, escenicolas, Bosa cerca il pick and roll, e poi la scarica molto bene per Barbisan, saltano addosso a Barbisan, Marco Balino di Davide Terraneo che non va stoppata su Nicola Sporro un po' di confusione in questo momento in attacco gli arbitri non fischiano nulla ci stava un fallettino e poi fallo in attacco del numero 15 che spinge Boss tre falli a zero dopo solo un minuto e mezzo per i ragazzi di Cislago Donatore Sassi si lamenta di qualcosina Davidino Davide Terraneo ci manca un realizzatore in questo momento in squadra nessuno ha il coraggio di tirare e poi fallo in attacco di Barbizanchi era fermo restituito il fallo restituito il fallo che hanno fischiano uguale a quello di prima esattamente uguale a quello di prima cambio rientra Diego Chiodaroli alla esperta si danno gli uomini Davide contro Parietti ancora Davide contro Parietti 43-41 il punteggio è ancora fermo Max Barbizan contro Cattaneo raddoppiato passi di partenza scarico fuori rimbalzo che non va Ponte Ponte poi del numero 8 su Davide Terraneo ed è il quarto fallo quarto fallo per Nicolo sei bene salutiamo la la fidanzata del presidente che se ne va Boz 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 per Barbizan voli per Sugar Andrea tirare invece no Barbizan mette a posto i piedini Boz Andrea Andrea scivola sotto per Barbizan e poi buttiamo via un altro pallone inutile Nicolas e poi si è fatto male si è girato il ginocchio al ragazzo di Cislago No invece niente e poi Nicolas in un grande anticipo la piovra Nicolas va ad anticipare molto bene Bosa e contropiede fantastico ed è minuto di sospensione per i ragazzi di intanto che il nostro Mario vada a asciugare il Matteo Parietti si è fatto male il ginocchio si è girato il ginocchio la dottoressa dice che non è niente la dottoressa dice nulla di fatto vediamo se abbiamo un po' di ghiaccio un po' di mojito e passa tutto 7 minuti ancora da giocare 45-41 per i ragazzi del basket rovello Manuel ha dato la carica ai suoi coach Sassi intanto sta approfittando di tutto il minuto di sospensione a disposizione i nostri ragazzi sono già pronti per giocare terminato il minuto ricominciamo i nostri due super giovani quest'oggi non entrano in campo riposa riposa Amadio oggi e anche Fede Bianchi e Davide Erba riposano ma hanno dato tanto nelle partite precedenti quindi va bene così playmaker ancora allora roppo per Parietti che sembra si sia ripreso abbastanza bene dal dolore lasciamo lì Cattaneo va in arresto e tiro Cattaneo è corto Barbisan si fa rubare il pallone poi Nicola Sporro con i suoi tentacoloni va a recuperare il pallone poi lo difende molto bene Sugar Niki Davidino passi di partenza non fischiati pick and roll fuori per Boss dolce dolce non va l'arresto e tiro di Boss 45-41 per i ragazzi di Rovello esce Barbisan è chiuso roppo roppo in uno contro uno e poi buono il fallo un fallo di Nicola che spinge sono due tiri liberi due tiri liberi per roppo buono il primo libero 45-42 ragazzi stiamo segnando veramente poco adesso in questo quarto ed è il 45-43 allora Boss Boss per Davide Davide per Boss fallo di piede per i ragazzi di Cislago e quindi 14 punti rimessa dal fondo per Davidino Terraneo arresto e tiro di Davidino Terraneo prende il palo e poi Barbisan va in semigancio ma non la mette e allora Bosa non riesce a strappare sul rimbalzo Eriforio arresto e tiro di Parietti non va Cattaneo prende il rimbalzo siamo un po' addormentati chiamerei un minuto di sospensione fuori per Cattaneo mette a posto i piedi Cattaneo non va neanche questo Nicola si Sugar Sugar molto bene difende il pallone scarico fuori per Bos per Davide non c'è nessuno che ha il coraggio di andare a tirare per fare un po' di distanza oh finalmente ni peccato l'arresto e tiro di Sugar che non va 4-5 4-3 rimetterei adesso Lollo Eriforio scarico fuori per uno scivolone nel numero 11 Chiodaroli Eriforio arresto e tiro che non va via Davide vola in attacco Davide via 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 siamo fermi Nicola Davide Davide prende non prende il blocco rifiuta il blocco poi ubriaca l'avversario poi Barbisan riconquista il pallone Nicola ancora Barbisan fuori per Davide arresto e tiro di perfetto Davide meno male meno male bravo Davide ottimo giro 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 veloce di Parietti e poi fallo di Barbisan che va a che va a contrastare la penetrazione cambio per noi esce Barbisan quarto fallo il suo ed entra Botti come se ha qualche ispirazione Botti 15 da giocare parietti esce roppo dei blocchi ancora roppo dei blocchi va a cercare di stoppare Nicola lo contrasta abbastanza bene e poi fallo no contesa contesa 47-43 forza ragazzi 3-58 da giocare Sugar concretizziamo la potenza di Botti da sotto Nicola invece per Botti da fuori Boss Nicola oh fantastico taglio di di Bosa è grandissimo assist di Nicola Sporro per un backdoor di Bosa che si infila in mezzo alla difesa 49-43 ora è tanta difesa da fare ragazzi Eri Forio blocco di Cattaneo che esce a prendere il pallone Sportella e poi riprende il suo rimbalzo Cattaneo l'accompagna dentro il canestro 49-45 3-14 ancora da giocare Nicola ancora per Davide due tagli qua perfetto fuori fuori uno Nicola ancora Davide ancora Davidino per Nicola fuori per Sugar del perro il resto tiro di Sugar da mette no non va e Botti poi va a sportellare per cercare di prendere il rimbalzo 49-45 2-50 ancora da giocare la partita la partita si fa calda e allora roppo 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 contro Boss ancora roppo cattaneo cattaneo fallo di Davide terraneo su andrea cattaneo cercando di andare a scippare la palla scippare la palla due tiri liberi per lui terzo fallo di Davide numero 15 andiamo a rimbalzo primo libero di Cattaneo solo rete 4-5 4-9 4-6 secondo libero di Cattaneo ed è buono allora Sugar Nicola si fa sotto ma non viene servito Botti pick and roll arresta il tiro di Davidino non va e poi Botti non riesce a prendere il pallone Parietti entra Lollo al posto di e gira per fortuna sul perimetro del ferro e poi fallo per il numero 4 su Sugar del pero che dovrebbe andare a fare due tiri liberi e spero che sia buono per lui doppio libero di Sugar che poi uscirà primo libero di Sugar buono il primo libero di Sugar secondo libero di Sugar 2-0-6 da giocare buono secondo libero 51-47 e poi un fallo sulla penetrazione di Roppo due tiri liberi per lui fallo di Boss secondo fallo ragazzi ragazzi buono il primo libero di Roppo che viene aiutato secondo libero di Roppo 51-48 1-57 da giocare forza ragazzi buono anche secondo libero di Roppo cambio esce Boss ed entra Lollo allora Davidino 51-49 Davide ancora ancora Davide sotto per Botti che sportella si gira velocissimo arresto e tiro fallo su Bottinelli da parte del numero 11 Chiodaroli che fa un po' il pezzo di infame e sono due tiri liberi per Botti abbiamo filmato tutto Botti non ti preoccupare ti vendicheremo due liberi per Botti Mario devi andare ad asciugare per favore Mario deve andare ad asciugare perché hanno paura di scivolare i bambini che sono in campo e allora il presidente va ad asciugare 1-41 forza ragazzi Botti primo libero è Tiziano il primo libero di Botti forza Botti secondo libero di Botti è sputato anche lui dal ferro possibilità dei Cislagesi di andare alla pari Davidino allora contro Roppo chiama fuori il gioco blocco e poi per Andrea Cattaneo arresto e tiro di Cattaneo molto 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 bravo Cattaneo si chiama come te dottoressa però è bravo questo qua quindi è bravo Botti 1-17 51 pari profumo di supplementari Botti Sugar ancora Sugar penetrazione di Sugar scarica malamente per Porro paura di tirare e quindi possesso per loro taglio di Sugar per Roppo per il Forio che è dentro ma non viene servito Roppo contro Nicola Sporro ancora Roppo e poi dà fallo di Nicola Sporro minuto di sospensione per i nostri ragazzi 46 secondi al termine della partita profumo di supplementari speriamo di no la dottoressa ha i suoi impegni e quindi dice che non ce la fa star qui con noi abbiamo sprecato veramente sotto uno scarico che avremmo potuto tirare benissimo con la mano sinistra appoggiando al tabellone Sugar invece ha avuto un pochino paura e quindi purtroppo queste scelte si pagano possesso adesso loro possibilità di andare a due tiri liberi e di portarsi sul più due terminato terminato il time out vediamo Manuel che cosa ha disegnato per questo ultimo nostro possesso dopo i due tiri liberi dei ragazzi di Cislago vediamo un po' due tiri liberi per Simone Roppo due tiri liberi per Simone Roppo dalla linea della pietà e il primo libero è buono aiutato dal ferro 52-51 Cislago secondo libero è ancora uguale a quello di prima ed ora abbiamo la possibilità di portarci sul pari vediamo cosa riusciamo a combinare io giocherei per Botti da sotto eccolo qua Botti e poi colpisce la gamba di Ruforio abbiamo 10 secondi da giocare e poi loro avranno l'ultima azione esce Botti esce Lollo esce Lollo penetrazione di Lollo fallo su Lollo è andato a cercare il fallo l'ha trovato e di Ruforio era fermo è stato molto bravo a procacciare il fallo Lollo due tiri liberi per lui cambio esce Botti ed entra Giorgione Borghi 53-51 due tiri liberi per Lollo speriamo ci sia che abbia mano fredda ed è buono il primo di Lollo 5-2 5-3 secondo libero di Lollo molto tranquillo pari odor di supplementare dicevo dottoressa Lollo contro Parietti Giorgio Borghi Franco Bolla Cattaneo c'è un doppio blocco qua sono due secondi di cambio arresto e tiro di Cattaneo fallo buono canestro è partita compromessa alla grande peccato veramente compromessa la partita abbiamo ancora l'ultima chance un tiro libero supplementare di Cattaneo che se fossi io lui se segna minuto non abbiamo più minuti di sospensione se fossi io in Cattaneo lo sbaglierei andiamo invece realizza molto bene minuto di sospensione così potremo cominciare qui davanti veramente una grande 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 Cislago grande gioco sulla sull'uomo più forte questa sera che è Andrea Cattaneo ora dobbiamo provare in una speranza di bomba di lollo o altrimenti caro Piero ci ritroveremo tra 15 giorni 5 secondi bastano perché si rimette poi dalla linea dalla mezzeria tra la metà campo e l'area degli avversari e quindi potrebbe potrebbe starci in 5 secondi un tiro da 3 per arrivare i supplementari c'è solo da sperare di metterla tutto lì e altrimenti è stata una bella partita ci siamo divertiti è stata una bella partita sicuramente sì non le solite non le solite che si vince di 20 o si perde di 20 soprattutto la seconda rimessa per i nostri ragazzi vediamo se hanno organizzato un tiro per Lollo per Barbisane anche lui che ha buone mani per Giorgio Borghi per Flugar quattro buone mani che possono tirare da tre Lollo Lollo sarà franco bollato 5 secondi da quando riceverà Barbisane arresto il tiro di Barbisane realizzato realizza Barbisane incredibile incredibile Barbisane realizza Piero vedi che tu non ci credevi e invece Barbisane di grande tabella realizza il punto del 56 pari incredibile e quindi forse ci sono i supplementari bravo 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 ottima la scelta di Manuel di schierare Barbisane per questo ultimo pezzettino di partita ed è stata la scelta vincente in quanto ha tirato una preghiera nel cielo e la preghiera si è avverata bravo Barbisane bravo Manuel che ci ha creduto ottima anche la rimessa di Sugar che l'ha liberato molto bene due secondi due secondi ragazzi vediamo vediamo coach Federico Sassi cosa ci disegna Piero cosa dici? hai visto? le emozioni non sono ancora finite le emozioni non sono ancora finite e quindi rimessa pazzesca rimessa pazzesca da qua per i ragazzi di Cislago non facciamo falli una preghiera nel cielo e sono minuti di supplementari cinque minuti di supplementari bene supplementare supplementare bene bene supplementare cari amici di Piero da Saronno supplementare a Rovello basket Cislago 56 basket Rovello 56 bomba di Barbisan cinque minuti di supplementare riprendiamo con Parietti contro Lollo esce per Eriforio ancora per Roppo blocco di Cattaneo per Roppo che va in uno contro uno contro un ottimo Giorgio Burghi ma che purtroppo non riesce a stoppare e quindi più due per i ragazzi di coach Federico Sassi penetrazione in mezzo zingaratissima di super Davide Terraneo Lollo Lollo che non fa la bombettina ma invece si prepara Losa per la penetrazione bravolosa ottimo il suo tiro fallo su Barbisan non fischiato e allora basket Cislago sul più due va all'attacco blocco su Lollo di Cattaneo arresto e tiro di Parietti scalfisce il ferro e poi va fuori fortunatamente va fuori il pallone accompagnato da Eriforio e allora abbiamo un'azione per portarci alla pari Bosa scusate Losa Losa per Barbisan gira per Lollo Lollo va in mezzo va a cercare guai fuori per Barbisan Barbisan che deve tirare oggi non deve penetrare e Eriforio gli ruba il pallone dalle mani lo cura Benelosa lo ferma in contotede Roppo rientra la bottineglia al posto di Barbisan ancora Roppo fallo non fischiato su Roppo da parte di Barbisan e allora Giorgio Borghi porta al pallone Lollo gira la palla per Davide Terranio ancora Davidino in mezzo all'aria fuori per Losa fuori per Giorgio fuori per Losa che tira da 8 metri prende il ferro e poi accarezzano il pallone tutti e due ma è palla per i ragazzi di Cislago e allora esce Barbisan che questa sera ci ha regalato il supplementare bravo Max non è riuscito a penetrare Davidino contro Roppo ancora più due per i ragazzi di Cislago e poi fallo in attacco del numero 15 finalmente blocco irregolare blocco irregolare ed è il suo quarto fallo andiamo a tirare no non andiamo a tirare scusate ancora Lollo per il tentativo del pareggio Giorgio Borghi si fa largo contro Chiodaroli blocchi brutti qua ancora Giorgio ancora Giorgio che cerca di ubriacare l'avversario e poi fallo in attacco che non esiste sul numero 4 allora ancora Roppo rimettiamo anche Nicola Sporo al posto di Giorgio Borghi ah penetrazione di Cattaneo molto bella penetrazione arresto e tiro di Davide Terraneo che non va peccato più 4 per i ragazzi di Cislago che stanno prendendo un piccolo break esce Giorgio non è Borghi ed entra Nicola Sposto Nicchi due liberi per Davidino primo di Davide solo rete insisterei sulle penetrazioni dalla parte di Cattaneo per fargli fare il quinto fallo visto che è l'uomo più pericoloso del basket di Cislago 58-60 intanto Parietti ancora contro Lollo Parietti contro Lollo blocco di Cattaneo Botti lo perde e Cattaneo va a realizzare è sempre lui che realizza dobbiamo fare penetrazioni su di lui per cercare di fargli commettere fallo Botti Davide Nicolas Botti si ferma 11 secondi al termine Davidino va in mezzo all'area fuori per Losa Nicolas dalla sua Mattonella peccato non va 1.28 meno 4 noi non ne abbiamo più loro qualcosina in più ce l'hanno e poi la penetrazione che li fa andare sul più 6 non riusciamo più a difendere hanno preso un ottimo vantaggio i ragazzi di Cislago dobbiamo rischiare un tiro da 3 non abbiamo il coraggio di farlo Lollo mette a posto i piedini e non la mette e firma firma così la prima sconfitta del campionato per i ragazzi di Baschettrovello mamma butta la pasta che qui i Cislagesi sono stati veramente bravi mette a posto i piedi arresta il tiro di Cattaneo anche da 3 anche da 3 Cattaneo al supplementare solo lui ha segnato un grande veramente veramente bravo immarcabile non era possibile i minuti di sospensione non si capisce perché bravi ragazzi di Cislago ottima la loro partita sicuramente molto più bravi dei nostri molto più presenti soprattutto in questo supplementare Botti va a fare una zingarata e poi doppio fallo su mister Davide Terraneo che va a due tiri per cercare di avvicinarsi un pochino di limitare i danni primo libero di Davide solo rete 29 secondi ancora da giocare secondo libero è ancora solo rete 29 secondi dobbiamo fare fallo per fermare il tempo Lollo ma se non firmiamo e invece no non facciamo neanche fallo per firmare tempo 24 secondi da giocare un po' di casino questo momento in campo minuto di sospensione chiesto dai ragazzi di Cislago 24 da giocare Piero mi sa che è andata 7 punti in 24 secondi sono molto difficili da recuperare quindi ci vedremo qui tra 15 giorni caro Piero sulle nostre fantastiche frequenze per vedere la prima giornata di ritorno contro il Bollate Bollate che è parecchio indietro di noi quindi potrebbe essere una bella partita da Piero chi lo sa vediamo ora che rientrano in campo le squadre vediamo se qualcuno ha disegnato qualcosa hanno disegnato uno schema per far tirare ancora Cattaneo sportellatissime di Nicola Sporro contro Chiodaroli ancora rimessa per Cattaneo sportellate su Cattaneo Nicola si recupera il pallone e poi Nicola lo abbraccia ed è rimessa per i ragazzi di Rovello andiamo ad asciugare Nicola si è fatto un placcaggio modello rugby 14 secondi al termine recuperiamo forza ragazzi abbiamo ben 14 secondi per tirare una bomba forza su rimette Nicola per Davide velocissimo vola vola Davide verso il canestro è buono il canestro di Davide meno 5 forza subito un fallo subito un fallo rimette Cattaneo il doppio blocco Nicola lì perfetto due secondi passati soltanto due tiri liberi per Chiodaroli quinto fallo di chi ha fatto fallo non so chi di Nicola Nicola quinto fallo entra Lollo entra Barbisan scusate 6-2-6-7 vediamo Chiodaroli se è concreto come i suoi compagni per quanto riguarda i liberi e per fortuna il primo libero viene sputato fuori 6-2-6-7 meno 5 possiamo ancora farcela Piero e invece il secondo non va fuori e poi rimbalza la palla sui piedi di Davide e a questo punto cari amici di Piero da Salonno la pasta possiamo pure buttarla perché è proprio finita 6-5-4-3 lasciamo giocare finisce la partita 67-62 amici di Piero da Salonno ci rivediamo tra 15 giorni sulle frequenze buonanotte a tutti